Lazio Luma, io sono da Lazio Io sono da Luma Eh Ma perché sta fredda? Ma quasi Uh, ti paro, ti paro, ti paro, ti paro, ti paro, ti paro Mamma mia Poi ti ha una voce, amma Altissima la concentrazione Il risultato si vede Eh, ma c'è la friccia che... Tiriiii, che c'è la friccia? Eh Pure il pallone eletto ora, eh Ma vedi che sta cazzo di friccia Che la bianca esce Che? Che si è preso Ma perché al centro? Perché fattura di un pallone eletto che c'è qui E clicca Ecco Ma è che c'è l'altra Quindi clicca No, che l'altra è così E clicca R3 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 Eh R3 C'è l'altra è così Oltre Adesso scusa Non lo so E' così Ora arrivi Ora arrivi V 70 Esce Eh va' lo dico Mi stavo buttando avversa L'ho parato Fuori L'ho bastonato Buono La Lazio vince Vince parata Ora potete Andiamo io Questi sono rigori raga Vai Let's go Mi Non mi ha buttato No ti stai buttando di là Non mi vai No Ti stai buttando Non mi va Non mi va Non mi va Ma non mi va Tutto a destra Vabbè Ma dove ti raga Non mi va NICOLAN 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 Ciao